I signori, signori italiani ci siete, buonasera! Sono pochi questa sera, alzate le mani! Siete la maggioranza, facciamo così! Ok, vi lascio fino alla fine, quando torno e dico italiani ci siete, buonasera! Un casino, ok? La gente che urla, che salta, che strappa capelli, se ce l'avete, se no, non fate nulla, ok? Mi raccomando, vi lascio... Sera, direttore, un applauso al nostro direttore, più direttore! Monsieur, se posso suara, solo tonight, posso? Can I? E solo, voglio provare una volta, e voglio provare una volta, in foie! Posso? Sì, posso! Quindi, vi lascio fino alla fine! E non è questo il mio! No, è il mio! Ok, quindi! Ok, ho capito, ho capito, ho capito, non lo faccio più, non lo faccio più, non lo faccio più, non lo faccio più, non lo faccio più! Paffetto, ok, dici walked in alcuni episodi, non lo faccio più, non lo faccio più, non ero, non lo faccio più, non lo faccio più, non lo faccio più! Buongiorno, buongiorno e benvenuti nel Broadway Theater Oggi ho il piacere di introdurare a te una show Una show che tu vas a vedere solo su questa stagione Solo su questa stagione, solo su questa stagione Perché? La tua stagione internazionale sarà trasformata in Actori, danzori e cantori Ma non sono usati alla stagione E non sono professionisti Ma sono facendo questo con un po' di heart Ok?